Niente signore, una serie di due tamburi che ho trovato nell'immondizia. Però uno era tutto quanto andato. E' per questo che l'hanno gettato. Però io mi pare che sono riuscito a raccogliere quasi tutti i pezzi. No, sotto sono... non c'è il buco sotto. Ehi caccaccio, vedete? Non c'è il buco. Se quando c'è un po' di tempo devi rincollarlo con un po' di cemento, che ne so, cemento per i muri. Ehi caccato che è simbatico. Grandi saluti.